di gustave flaubert madame bovary voce di lorenzo pieri terza parte capitolo settimo emma fu stoica all'indomani quando il signor haran lusciere si presentò da lei con due testimoni per redigere il verbale di pignoramento cominciarono dallo studio di bovary e non tennero conto della testa frenologica che venne considerata strumento di lavoro ma contarono tutti i piatti in cucina le marmitte le sedie i candelieri e nella camera da letto tutti i soprammobili dello scaffale esaminarono gli abiti la biancheria lo spogliatoio e tutta l'esistenza della signora bovary fin nei più intimi recessi fu simile a un cadavere al quale venga fatta l'autopsia distesa per tutta la sua lunghezza sotto gli occhi di questi tre uomini il signor haran tutto abbottonato in una stretta giacca nera con la cravatta bianca e le staffe ben tese ripeteva di tanto in tanto permette signora permette spesso esclamava bello molto grazioso poi si rimetteva a scrivere intingendo la penna nel calamaio di corno che reggeva nella mano sinistra quando ebbero finito con la casa salirono in soffitta vera uno scrittoio dove si trovavano le lettere di rodolf fu necessario aprirlo a corrispondenza disse il signor haran con un sorriso discreto ma mi deve consentire devo accertarmi che la scatola non contenga altro e inclinava le lettere con delicatezza come se volesse farne cadere napoleoni emma si sentì prendere dal disgusto vedendo quelle grosse mani rosse e molli come lumaconi posarsi sui fogli che le avevano fatto battere il cuore alla fine i tre se ne andarono felicite rientrò emma l'aveva mandata a spiare bovary per tenerlo lontano e ora tutte e due fecero nascondere in soffitta il custode degli oggetti pignorati e l'uomo giurò di rimanervi charles quella sera parve pensieroso emma lo teneva d'occhio con uno sguardo pieno di angoscia credendo di scorgere accuse nelle rughe del volto di lui poi quando volgeva gli occhi a guardare il caminetto dal parafuoco cinese le ricche tende le poltrone tutte quelle cose che avevano lenito l'amarezza della sua vita emma si sentiva prendere dal rimorso o meglio da un rimpianto immenso che acuiva la sofferenza invece di diminuirla charles attizzava placido il fuoco i piedi appoggiati agli alari vi fu un momento in cui il custode che certo stava annoiandosi nel suo nascondiglio fece un po di rumore c'è qualcuno che cammina di sopra disse charles no rispose emma è un abbaino rimasto aperto che il vento fa sbattere emma partì per rouen l'indomani una domenica per andare da tutti i banchieri di cui conosceva il nome erano in campagna o in viaggio non si arrese chiese denaro a quelli che le riuscì di incontrare dichiarando di averne estremo bisogno e assicurando una pronta restituzione rifiutarono tutti qualcuno le rise in faccia alle due si precipitò dal leon bussò alla porta nessuno venne ad aprire alla fine egli comparve perché sei venuta ti disturbo no ma confessò che il padrone di casa non voleva assolutamente che lui ricevesse donne devo parlarti disse emma allora leon prese la chiave emma lo trattenne oh no laggiù nella nostra camera andarono all'hotel de boulogne non appena furono arrivati emma beve d'un fiato un bicchiere d'acqua era pallidissima gli disse leon devi farmi un piacere e stringendolo con forza scotendolo per le braccia soggiunse ascolta ho bisogno di 8.000 franchi sei pazza non ancora e subito raccontandogli la storia del sequestro gli disse la sua angoscia charles non sapeva nulla la suocera la detestava papà ruo non poteva far niente ma lui leon doveva darsi da fare per trovarle questa indispensabile somma come vuoi che quanto sei vigliacco esclamò lei a questo punto leon disse scioccamente forse esageri la gravità della cosa può darsi che con un migliaio di scudi quell'individuo diventi ragionevole ragione di più per compiere qualche tentativo non poteva credere che non fosse possibile trovare 3.000 franchi d'altronde leon avrebbe potuto garantire per lei va tenta è necessario corri o prova prova ti amerò ancora di più leon uscì tornò in capo a un'ora e disse con un viso grave sono stato da tre persone inutilmente rimasero seduti l'uno di fronte all'altra ai lati del caminetto immobili e senza parlare emma alzava le spalle e pestava i piedi leon la sentì mormorare al tuo posto io li avrei trovati e dove al tuo studio e lo guardò un infernale audacia si sprigionava dalle sue pupille ardenti e le palpebre socchiuse conferivano allo sguardo un'espressione lasciva e ipnotica tanto che il giovane si sentì divenire debole sotto l'effetto della tacita volontà di quella donna che lo spingeva al crimine ebbe paura e per evitare ogni spiegazione si batte la fronte esclamando morel deve tornare stanotte non mi rifiuterà un piacere spero era uno dei suoi amici il figlio di un negoziante assai ricco e io ti porterò il denaro domani soggiunse emma non ebbe l'aria di accogliere questa nuova speranza con la gioia che lui si era aspettato sospettava forse l'inganno leon continuò arrossendo quindi se per le tre non sarò di ritorno non mi aspettare cara ora devo proprio andare scusami addio le strinse la mano ma la sentì inerte emma non aveva più la forza di provare un sentimento qualsiasi suonarono le quattro ella si alzò per tornare a yonville obbediente come un automa alla spinta dell'abitudine era una bella giornata una di quelle giornate del mese di marzo chiare e rigide nelle quali il sole splende in un cielo tutto bianco gli abitanti di ruo con gli abiti della festa passeggiavano e avevano l'aria di essere felici emma arrivò sulla piazza del sagrato la gente usciva dai vespri fluendo dai tre portali come un fiume sotto le arcate di un ponte e in mezzo più immobile di una roccia c'era lo scaccino emma ricordò allora il giorno in cui ansiosa e piena di speranza era entrata sotto la grande navata che si apriva davanti a lei meno profonda del suo amore e proseguì piangendo sotto il velo stordita barcollante e vicina a svenire attenzione gridò una voce giungendo da un portone che stava schiudendosi emma si fermò per lasciar passare un cavallo scalpitante fra le stanghe di un tilbury guidato da un gentiluomo in pelliccia di zibellino che poteva essere emma lo conosceva la vettura partì al galoppo e scomparve ma sì era lui il visconte si voltò la via era deserta si sentì così abbattuta così triste che dovette appoggiarsi contro il muro per non cadere pensò poi di essersi sbagliata le sembrava di non sapere più nulla tutto dentro e fuori di lei stava abbandonandola si sentì perduta sbattuta a caso in abissi indefinibili e quasi con gioia arrivando alla croce rossa scorse quel bravuomo di omè che sorvegliava il carico di una grossa scatola piena di medicinali sulla rondine reggendo con mano un fazzoletto contenente sei gallette per la moglie alla signora omè piacevano molto questi panini compatti fatti come un turbante che si mangiano in quaresima con il burro salato ultimi superstiti dei cibi medievali risalenti forse al secolo delle crociate e dei quali un tempo i robusti normanni si rimpinzavano illudendosi forse di vedere sulla tavola alla luce delle torce gialle fra le brocche di vino dolce aromatizzato con la cannella e i giganteschi salumi le teste dei saraceni da divorare la moglie dello speziale li sgranocchiava come loro a dispetto della pessima dentatura e così omè tutte le volte che faceva un viaggio in città non mancava mai di portargliene acquistandoli sempre da uno specialista di rue massacre felice di vederla disse ora offrendo la mano a emma per aiutarla a salire sulla rondine appese il fagottino dei panini alla bacchetta della reticella e rimase a capo scoperto e a braccia concerte in un atteggiamento pensoso e napoleonico ma quando come al solito ai piedi della salita incontrarono il cieco esclamò non riesco a capire come le autorità possano tollerare ancora simili speculazioni dovrebbero rinchiudere questo infelice e costringerlo a un lavoro qualsiasi il progresso parola d'onore va a passo di lumaca siamo ancora in piena barbarie il cieco tendeva il cappello che ballonzolava di fianco alla portiera come una tasca di tappezzeria schiodata ecco un esempio di scrofolosi disse il farmacista per quanto conoscesse questo povero diavolo finse di vederlo per la prima volta mormorò parole come cornea cornea opaca sclerotica facess poi gli domandò in tono paterno è molto tempo amico mio che soffri di questa spaventosa infermità invece di ubriacarti all'osteria faresti meglio a seguire un regime gli suggerì di bere del buon vino della buona birra di mangiare carni arrostite il cieco continuava la sua canzone sembrava quasi un idiota alla fine o me aprì il borsellino tieni eccoti un soldo dammi due centesimi di resto e non dimenticarti i miei consigli ti troverai contento chiver si permise di esprimere qualche dubbio a voce alta sulla loro efficacia ma lo speziale affermò che lo avrebbe guarito lui stesso con una pomata antiflogistica di sua invenzione e diede al mendicante il proprio indirizzo signor come vicino al mercato sono abbastanza noto bene disse i ver invece di pagare ci farai vedere una delle tue rappresentazioni il cieco si accosciò rovesciò il capo roteò gli occhi verdastri tirò fuori la lingua e si strofinò lo stomaco con le mani e intanto emetteva un urlio sordo come un cane affamato emma colma di disgusto gli gettò al di sopra della spalla una moneta da cinque franchi era tutto quello che possedeva le sembrò bello spenderlo così la vettura era già ripartita quando come si spenzolò dal finestrino e gridò niente farinacei né latticini portare indumenti di lana sulla pelle ed esporre le parti malate al fumo delle bacche di ginepro la vista dei noti paesaggi che le sfilavano davanti agli occhi distolse a poco a poco emma dagli attuali dispiaceri una stanchezza insopportabile la salì la ridusse quasi ebete scoraggiata mezzo addormentata accada quel che vuole si diceva e poi chissà perché da un momento all'altro non sarebbe potuto capitare qualcosa di straordinario lo stesso le re avrebbe potuto morire fu svegliata alle nove del mattino da un rumore di voci sulla piazza c'era una gran ressa intorno al mercato per leggere un affisso incollato su uno dei pali ed emma vide giustan che saliva su un paracarro e lo stracciava ma nello stesso istante la guardia campestre gli posò la mano sul colletto il signor come uscì dalla farmacia e la signora le françoise in mezzo alla folla aveva tutta l'aria di tenere un acconcione signora signora gridò felicite entrando è terribile e la povera ragazza molto turbata le tese un foglio giallo che aveva appena staccato dalla porta emma lo scorse con un rapido colpo d'occhio e lesse che tutta la sua mobiglia era in vendita si guardarono in silenzio domestica e padrona non avevano alcun segreto fra loro alla fine felicite sospirò se fosse in lei signora andrei dal signor guillomò credi e questa domanda voleva dire tu che conosci la casa attraverso il domestico forse il padrone ha parlato qualche volta di me sì ci vada farà bene ad andarci emma si vestì si mise l'abito nero con la mantellina guarnita di giaietto per non farsi vedere vera ancora una gran folla nella piazza prese il sentiero che passava fuori del villaggio in riva al fiume arrivò tutta ansimante davanti al cancello del notaio il cielo era scuro e cadeva qualche fiocco di neve al suono del campanello theodore in panciotto rosso apparve sulla scalinata venne ad aprirle quasi con familiarità come a una vecchia conoscenza e la fece entrare nella sala da pranzo una grossa stufa di maiolica borbottava sotto un cactus che riempiva la nicchia incorniciati di legno spiccavano sulla parete tappezzata con una carta da parati che imitava i pannelli di quercia l'esmeralda di steuben e il putifarre di chopin la tavola apparecchiata due scaldavivande d'argento i pomoli delle porte di cristallo il pavimento di legno e i mobili tutto risplendeva di una pulizia meticolosa anglosassone le finestre erano decorate agli angoli da vetri colorati ecco una stanza da pranzo come piacerebbe anche a me averne una pensava emma il notaio entrò stringendosi contro il corpo con il braccio sinistro la veste da camera a disegni di palme mentre toglieva e subito rimetteva in capo con l'altro la papalina di velluto marrone pretenziosamente posata di sghimbescio sul lato destro della testa ove ricadevano le estremità di tre ciocche bionde che partendo dall'occipite gli circondavano il cranio calvo dopo averle offerto una sedia sedette a sua volta per fare colazione scusandosi molto per la mancanza di riguardo signore disse emma vorrei pregarla di cosa signora all'ascolto emma cominciò ad esporgli la situazione il dottor guiamma già la conosceva essendo nascostamente legato al mercante di stoffe dal quale trovava sempre i capitali necessari ai prestiti ipotecari che i suoi clienti gli chiedevano di trattare era al corrente meglio di lei quindi della lunga storia di queste cambiali di minima entità al principio girate poi al nome di varie persone distanziate a lunghe scadenze e rinnovate di continuo fino al giorno in cui riuniti tutti i protesti il mercante aveva incaricato l'amico vincar di procedere a nome suo secondo quanto stabiliva la legge per non fare con i concittadini la figura dello sciacallo emma inframmezzò al racconto recriminazioni contro le re alle quali il notaio rispondeva di tanto in tanto con parole prive di ogni significato mangiando la costoletta e bevendo il tè abbassava il mento sulla cravatta blu cielo tenuta a posto da due spille di brillanti riunite da una catenella d'oro e sorrideva di uno strano sorriso dolciastro e ambiguo ma accorgendosi che emma aveva i piedi umidi disse si avvicini alla stufa le appoggi più in alto contro la porcellana emma temeva di insudiciarla il notaio asserì in tono galante le belle cose non rovinano mai nulla allora la signora bovary cercò di commuoverlo e commuovendosi ella stessa gli raccontò le miserie di casa sua le ristrettezze i bisogni il notaio capiva tutto ciò una donna così elegante e senza smettere di mangiare si era girato del tutto verso di lei e le sfiorava con il ginocchio la scarpa la cui suola si incurvava fumando contro la stufa ma quando emma gli chiese mille scudi strinse le labbra poi si dichiarò spiacentissimo di non aver avuto prima la direzione degli affari della signora bovary poiché vi sarebbero stati cento modi comodissimi anche per una signora di far fruttare i suoi denari avrebbero potuto azzardare quasi a colpo sicuro eccellenti speculazioni sia nelle torbiere di crusmenil sia nei terreni di avua e lasciò che la rabbia la divorasse al pensiero delle somme fantastiche che avrebbe certo guadagnato come mai soggiunse non si è rivolta a me proprio non lo so disse emma perché poi le facevo dunque tanta paura io dovrei rammaricarmi più di lei se le cose sono andate così è tanto se ci conosciamo le sono però assai devoto spero che non ne dubiti almeno tese la mano prese quella di emma la baciò avidamente poi se la mise sul ginocchio e giocava con delicatezza con le dita dicendo mille paroline dolci la sua voce in colore sussurrava come un uccello che scorre una scintilla brillava nelle pupille di lui attraverso il luccichio degli occhiali e le sue mani avanzavano nelle maniche di emma per palparle le braccia la signora bovary sentiva contro la gota il soffio di un respiro ansimante quell'uomo la infastidiva moltissimo si alzò di scatto dicendo signore sto aspettando e che cosa fece il notaio divenuto all'improvviso estremamente pallido questo denaro ma poi cedendo all'impeto di un desiderio troppo forte disse ebbene sì si trascinò in ginocchio fino a lei senza riguardi per la propria vestaglia per favore rimanga io l'amo la ferrò per la vita un fiotto di sangue salì al viso della signora bovary e la indietreggiò con un'espressione terribile gridando lei sta approfittando con impudenza della mia disgrazia signore mi si può compiangere ma non sono in vendita e se ne andò il notaio rimase di stucco gli occhi fissi sulle belle pantofole ricamate erano il regalo di un'innamorata e questa vista finì per consolarlo d'altra parte riteneva che un'avventura di quel genere lo avrebbe potuto condurre troppo lontano quel miserabile quel mascalzone che infamia si diceva emma fuggendo con passo nervoso sotto i pioppi della via il disappunto per l'insuccesso rendeva ancora più forte l'indignazione per il suo pudore offeso aveva l'impressione che la provvidenza si accanisse a perseguitarla si sentiva piena di orgoglio e non aveva mai avuto tanta stima di sé e tanto disprezzo per gli altri un non so che di bellicoso la tracinava avrebbe voluto percuotere gli uomini rompere loro la faccia annientarli tutti e camminava rapida pallida fremente irata scrutando con gli occhi pieni di lacrime l'orizzonte deserto quasi godendo dell'odio che la soffocava quando fu in vista di casa sua si sentì presa da un senso di stordimento non riusciva più ad andare avanti ma non poteva fare diversamente poi dove sarebbe potuta fuggire felicitè l'aspettava sulla porta ebbene no disse emma e per un quarto d'ora passarono in rassegna tutte le diverse persone di yonville che sarebbero potute essere disposte ad aiutarla ma ogni volta che felicitè nominava qualcuno emma obiettava non è possibile non la consentiranno mai e il signore sta per tornare lo so lasciami sola aveva attentato tutto ormai non c'era più nulla da fare e quando charles fosse arrivato gli avrebbe detto togliti di lì il tappeto sul quale cammini non è più tuo di tuo in questa casa non c'è più un solo mobile una spilla una pagliuzza e sono stata io a rovinarti pover'uomo lui allora sarebbe scoppiato in singhiozzi avrebbe pianto a lungo e alla fine superata la sorpresa avrebbe perdonato si mormorava emma digrignando i denti mi perdonerà lui al quale non sarebbe sufficiente un milione da offrirmi perché io possa scusarlo di avermi conosciuta mai mai il pensiero dell'autorità di bovary su di lei l'esasperava e poi che confessasse o non confessasse subito di lì a poco o domani la catastrofe sarebbe accaduta lo stesso era forse meglio aspettare questa scena orribile e subire il peso della magnanimità di lui le venne voglia di tornare dalle re ma a che scopo per scrivere a suo padre era ormai troppo tardi e forse adesso si pentiva di non aver ceduto all'altro quando di il trotto di un cavallo sul viale era charles aprì il cancello era più pallido del muro di gesso barcollando giù per le scale emma fuggì per la piazza e la moglie del sindaco che chiacchierava davanti alla casa con l'estibudo a la vide entrare dall'esattore corse a dirlo alla signora caron e le due donne salirono in soffitta la nascoste fra la biancheria stesa sulle corde fra due pali si appostarono comodamente per osservare l'interno della casa di binè questi era solo in soffitta occupato ad imitare con il legno uno di quei soprammobili d'avorio indescrivibili composti da cornetti e sfere incavate le une dentro le altre il tutto ritto come un obelisco e della più assoluta inutilità stava per attaccare l'ultimo pezzo sul punto di raggiungere la meta nella penombra del laboratorio la polvere dorata si sprigionava dal suo attrezzo come un pennacchio di scintille sotto i ferri di un cavallo al galoppo le due ruote ronfavano girando binè sorrideva con il mento basso le narici dilatate sembrava perduto in quella felicità completa che è propria soltanto delle occupazioni senza importanza le occupazioni che divertono l'intelletto con ostacoli facilmente superabili e lo assorbono in una attività fine a se stessa oltre la quale non esistono sogni a eccola fece la signora tu vasce ma non era possibile a causa del rumore del tornio sentire che cosa emma stesse dicendo infine queste signore credettero di distinguere la parola franco e mamma tu vasce sussurrò pianissimo lo sta pregando per ottenere una proroga nel pagamento delle tasse sembrerebbe rispose l'altra la videro andare avanti e indietro mentre osservava contro i muri i portatovaglioli candelieri i pomoli per le ringhiere mentre binè si lisciava alla barba soddisfatto sarà andata a ordinargli qualcosa domandò la signora ma lui non vende niente obiettò la vicina l'esattore aveva l'aria di ascoltare spalancando gli occhi come se non capisse emma continuava con atteggiamenti teneri supplichevoli si avvicinò il seno le si sollevava ritmicamente tacevano entrambi gli sta facendo delle proposte disse la signora tu vasce binè era rosso fino agli orecchi emma gli prese le mani ah è troppo non c'erano dubbi che gli stesse proponendo qualcosa di abominevole perché l'esattore era un coraggioso aveva combattuto a bozzone a luzzone aveva fatto la campagna di francia ed era stato addirittura proposto per una croce al merito di colpo come alla vista di un serpente si tirò indietro gridando signora ma le pare bisognerebbe frustarle le donne di quella specie esclamò la signora tu vasce dov'è andata domandò la signora caron emma era infatti sparita mentre venivano pronunciate quelle parole poi scorgendola che imboccava la grande e svoltava a destra come per raggiungere il cimitero si abbandonarono alle congetture mamma rolle disse emma arrivando dalla ballia soffoco mi slacci si lasciò cadere sul letto singhiozzando mamma rolle la coprì con una gonna e rimase in piedi accanto a lei poi siccome non otteneva risposta alle sue domande la brava donna si allontanò prese il filatoio e si mise a affilare il lino o la smetta mormorò emma alla quale sembrava di sentire il tornio di binè chi le dice niente si domandava alla ballia perché è venuta qui emma si trovava lì spinta da qualcosa di molto simile alla paura qualcosa che la scacciava dalla sua casa coricata a supina immobile con gli occhi fissi riusciva a distinguere soltanto vagamente gli oggetti benché si sforzasse di mettervi tutta la sua attenzione con una ostinazione idiota contemplava le screpolature della parete i due tizzoni fumanti con le estremità ravvicinate e un grosso ragno che le camminava al di sopra del capo nella fessura di una trave riuscì infine a radunare le idee cominciò a ricordare un giorno con leon oh com'era lontano il sole brillava sul fiume e le vitalbe olezzavano trasportata dai ricordi come da un torrente che ribolle riuscì ben presto a riportare alla memoria la giornata precedente che ore sono domandò mamma rolle uscì alzò le dita della mano destra dalla parte dove il cielo era più chiaro e rientrò ad agio dicendo fra poco le tre ah grazie grazie certo leon stava per arrivare ne era sicura aveva trovato il denaro forse se ne stava laggiù pacifico senza neppure sospettare che ella si trovava lì ordinò alla ballia di correre a casa sua per accompagnarlo da lei faccia presto ma cara signora vado vado emma si stupì adesso di non aver pensato subito al leon ieri le aveva dato la sua parola e certo non sarebbe venuto meno alla promessa e già si vedeva dalle re allineare sulla scrivania i tre biglietti di banca poi sarebbe stato necessario inventare una storia per spiegare le cose a bovary ma quale intanto la ballia non arrivava mai ma dato che non esistevano orologi nella capanna emma credette di avere forse esagerato il tempo trascorso si mise a passeggiare in giardino passo passo percorse il sentiero lungo la siepe poi tornò indietro in fretta sperando che la brava donna fosse venuta da un'altra strada alla fine stanca di aspettare assalita dal sospetto che cercava di respingere senza più sapere se si trovasse lì da un secolo o da un minuto sedette in un angolo chiuse gli occhi e si tappò gli orecchi il cancello cigolò emma fece un balzo e prima che fosse riuscita a formulare una domanda mamma rolle aveva detto da lei non c'è nessuno come ho nessuno e suo marito piange la chiama la stanno cercando emma non rispose nulla ansimava e girava gli occhi intorno a sé tanto che la contadina spaventata dal suo aspetto indietreggiò distinto credendola impazzita d'improvviso emma si la fronte gettò un grido il ricordo di rodolphe come un gran lampo in una notte oscura le aveva attraversato la mente era così buono così delicato così generoso e d'altronde se avesse esitato a renderle questo favore lei avrebbe saputo come costringerlo ricordandogli con un solo sguardo il loro amore perduto si avviò quindi verso la uscette senza rendersi conto che correva ad offrirsi a chi l'aveva un tempo tanto esasperata senza rendersi conto neppure lontanamente di questa prostituzione